cari amiche ed amici questa volta voglio parlare dell'iphone 6 dell'iphone 6 e voi mi chiederete ma perché vuoi forse inaugurare una rubrica informatica sì ma anche perché io già ne ho parlato in due video credo un 12 video di questa ciò fica euro case che io vi sconsiglio vivamente di comprare come avete visto qualche giorno fa ho fatto un video in occasione dello sciopero del 12 dicembre purtroppo è venuto senza audio io me ne sono presso corrompito tardi perché questo tablet pc e ut 710 mdq è una grande merda allora voi mi direte ma perché fai questo video sul tablet che non funziona beh la ragione è molto semplice questo tablet me l'ha regalato mia madre il 12 me l'ha comprato il 12 dicembre del 2013 dopo otto messi neanche di usarlo già si è rotto gli hanno cambiato cambiato la placca interna tre volte il monitor tre volte lo ha portato a riparazioni otto volte all'assistenza della marca e adesso il 12 12 14 è stata l'ultima volta che lo hanno delle otto volte che lo hanno riparato non c'è più garanzia in pratica firma senza suono gli hanno cambiato tante cose soprattutto la placca madre perché ogni volta era disfunzionale in qualcosa adesso non c'è su non registra il suono e niente e quest'anno non ci possiamo fare il regalo di natale e allora sono molto triste perché questo se ne è andato subito ma c'è anche il computer da scrittorio e il cellulare quel quali mi filmo il mio che questo samsung galaxy young 53 60 il mio cellulare che sono destinati a andare prima o poi in azolescenza ma soprattutto io ci tenevo a un regalo di natale e non possiamo farcelo quest'anno allora un appello a tutti e tutti voi no non chiedo denaro invio di denaro signore di voi mi desse un euro chissà quanti soldi farei no nulla di tutto questo ma è un qualche cosa di simile infatti ogni mi sembra mille visioni youtube interietti da un euro io ho girato più di 400 video quindi se ognuno di voi mi farebbe come regalo di natale e se lo farebbe anche sempre sono video divertenti si guarderebbe tutti i miei video se ognuno di voi si guardi tutti i miei video almeno una volta a quelli che mi piacciono di mette like e li mette nella sua cartella di riproduzione e condivide il link beh io c'ho più di cento passaggi iscritti e magari ci avvicineremo a un numero per il quale youtube si vedrà obbligato a pagarmi 100 dollari e quindi è a tutte e tutti voi che vi chiedo se volete fare un bel regalo di natale di non far altro che guardare tutti i miei video e mettere un like e condividere con gli altri in questo modo non mi darete del denaro ma della visibilità in youtube e poi magari youtube arriverà a pagarmi prima o poi qualcosa così mi prende un tablet e decente io stavo pensando addirittura un cellulare per esempio mi piacerebbe molto le leggi g3 oppure il samsung galaxy notte quarto con l'orologino girano beh allora io ho detto io non pretendo che mi paghiate il denaro che mi inviate un cellulare di alta risoluzione ma se volete aiutare 7 100 per natale magari ecco mi piace anche perché avevo iniziato parlando dell'iphone 6 quello grande non o quello piccolino che poi dicono che ha una vulnerabilità ma chi se ne frega ecco quindi immagini contro l'iphone 6 o il note quarto o il g3 grande che c'ha quattro volte hd nello schermo però ecco aiutatemi perché sennò sono rimasto già senza tablet fuori garanzia una chiavica perché era economico io vi sconsiglio di comprarlo vi consiglio di non comprarlo questa marca la euro case che pensavo che fosse europea invece nord americana è una grande cagata come la pc boss quindi aiutatemi uscire fuori da questa ve ne prego fate clic che mi piace nel mio video che vi piacciono metteteli nelle vostre cartelle favoriti e soprattutto guardate guardate tutti i miei video che li ho fatti sempre pensando al mio pubblico pensando a voi a trasmettervi qualcosa e quindi mi farete molto piacere se guarderete tutti i miei video ripeto io volevo essere scrittori da 12 anni ma sono disoccupato e magari chi ti dice che in questo modo torni un occupazione grazie all'appoggio e alla solidarmi tutti voi quindi vi ripeto se vorrete aiutarmi guardate tutti i miei video magari raggiungiamo una massa critica di visioni per cui youtube mi farà il regalo da parte vostra e quindi augurandovi buon natale a tutti e tutti voi e poi feste buon anno nuovo e ringraziandovi fin da adesso invito a guardare tutti i miei video una mano alla l'altra io magari vedrò i vostri ciao dal vostro sante il cian grazie a tutti i miei video ecco qua questo è il nostro albero di natale ormai da molti anni una ciofica ma tanto ci basta per cui poco ci dobbiamo regalare allora parlando dell'iphone siccome vi ho già parlato in altri video del mio tablet che adesso si è collassato definitivamente già appena quasi un anno ma in una chiavica di tablet adesso se hanno volato sta per fiori ma hanno fatto non so se 26 30 gradi allora io vi chiedo a tutti e tutti voi non del legato non dell'italia dei cellulari ma che guardiate i miei video di youtube nel mio canale sentenchan cioè dell'anonimo canale dove state guardando questo video che è stato caricato da me il canale di youtube in questo modo forse youtube mi dare i denari ed io magari se non proprio il 26 dicembre potrò mettere un prodotto high tech magari un iphone 6 super quello con lo schermo grande o magari un note quarto o un lg g3 o un expiria z9 quello che sia infatti se supereremo le missioni critiche necessarie a che youtube ti paghi voglio farò un video facendo vedere il regalino che mi sono fatto grazie ai vostri ascolti se vi dico che quest'albero è tenuto su con lo scotch non vi mento ma sono cari nuovi poi vorrei prendere un albero verde questo cazzo di dorato viene in mente le strane cappucce che ci aveva rai nish in testa quando faceva le sue conferenze tutte dorate con le foglie dorate vabbè intendo che a questo rumore perché gli si sta per sciogliere lo scotch col quale tenuto in piedi e cadere di nuovo una starnuta e cade perché non ha una struttura interna pratica è una strissione messo la rotta spirale a cono dall'idea di albero con le luci che in parte sono fulminate allora dicevo aiutatemi guardando i miei video in questo modo youtube mi paga ed io mi faccio un bel regalo di natale un prodotto high tech e poi faremo il video però io pregherei a tutti quanti vedono il mio video suggerire se comprare tablet o cellulare se della apple della samsung o di qualche altra marca e vi prego guardate il video che virtualmente come se mi veste ogni mille visioni un dollaro e poi commentate la marca il modello che voi vorreste regalarmi per esempio htc one x9 samsung s5 e quindi se raggiungiamo i 100.000 visioni o di più io con quel denaro poi vedrò quale suggerenza seguire magari in accordo anche il denaro che mi dà youtube io farò vincere la suggerenza più probabile certo se mirano solo 100 dollari suggerite tablet da 1000 dollari oppure il cellulare da 500 non lo posso comprare e vince il cellulare o tablet più prossimi ecco il centro se invece mi pagano 2000 dollari e allora dice la suggerenza più vicina oppure compro due cose oppure mi paga una banda larga da 100 megabit di un anno quindi ecco voi vedete il video mettetelo faremo a favoriti e votate mi piace questo video qua e poi come risposta suggerite un modello di tablet con il cellulare della macchia preferite io poi se youtube mi paga cercherò di attesorare le vostre suggerenze adesso vi lascio questo è tutto buon natale a tutti buon anno nuovo mi raccomando guardate i miei video tutti io guarderò i vostri video così in questo modo potrò uscire da queste perché mi si sta sfasciando tutto l'equipaggiamento tecnologico bocca al lupo ciao dal vostro sentitian ciao 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 ciao